Buongiorno e buonasera dal vostro suirito ragazzi e ragazze ed eccoci qua in questo nuovo episodio di Pocket Mirror Come sempre so farmi desiderare, ma non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo le povere disavventure di questa piccolina Che si ritrova sempre a che fare con ragazze pazze di Andrelle, ma sempre gnocche Una piccola precisazione prima di continuare Fin dall'inizio ho sbagliato a pronunciare il nome di Pizze Puzze Pazze Non è Eiet, bensì Egliet Fleta invece l'ho pronunciato bene al primo colpo E per quanto riguarda Harpe non è così, non è neanche Harpe, nemmeno Harpae, bensì è Harpai Sì, sembra strano ma mi sono documentato e ho ricevuto dal team stesso la pronuncia corretta di questi nomi Detto questo possiamo continuare, ma prima di farlo prendo questi due amuleti di zucca Servono per sbloccare degli extra a fine gioco Vedo che posso avanzare Ah, c'è una serratura Mi concio un po' schiera in arrivo Oh Oh Di chi cacchè è quell'occhio rosso? Non dovrei avvicinarmi troppo Chi cacchio ci sta dall'altra parte? Piccolo cieco Torniamo indietro Ragazzi, giuro Non me l'aspettavo l'occhio Forca miseria Vabbè, dipinto di cui a me sinceramente non mi interessa Dove siamo? Ah In una libreria Credo che troveremo molte cose interessanti da leggere Sergente Maggiore Roman Con la presente vi lascio questa lettera Per quanto riguarda Il comportamento di sua figlia Durante Le mie lezioni Che ha problemi di salute? Le suggerisco di consultare un medico Ah Ha problemi mentali Diventa Praticamente violenta Durante le lezioni Si mette a strappare Le pagine dei libri Scarabocchia Sui suoi appunti E fa anche i capricci Quando le viene chiesto di leggere Qua ci vuole veramente uno psichiatra Altro che psicologo Secondo me Perché è strano che si è diventata Così violenta all'improvviso E non è finita qua Si strappa anche i capelli E si ferisce Anche con la penna d'oca Perché è diventata così? E l'insegnante privato Si rifiuta di Tollerare ulteriormente Questi comportamenti E potevi farmi leggere Piccolina mia? Da come ho capito Alla fin fine Ha preferito Smettere di continuare Di insegnare A queste ragazze Ma non è che magari È Harpai Perché se fosse così Non mi stupirebbe Della cosa E meno male che L'arpa di agonista Ha interrotto Perché se no Mi mettevo a tradurre Ore e ore di Testo Forse è inutile C'è un diario Non ho mai avuto Intenzione di rompere Questa famiglia Questo incidente Non è altro che Uno spiacevole Scherzo del destino O almeno così Voglio credere Tuttavia Sono diventato Incapace Di tollerare Tali Esplosioni Di Pazzia Credere Che questa famiglia È diventata Nient'altro Che Un giocattolo Di Un essere Ripugnante È assolutamente Scandaloso È inaccettabile Essere Ripugnante Mi prenderò Le responsabilità Delle tue azioni Come mio Ultimo Gesto D'amore In modo Che tu Possa Riposare In pace Le restanti Pagine Sono poi Incollate Secondo me Quello che abbiamo Appena letto È collegato Alla lettra Di questo Professore Quindi Questa ragazza È impazzita Ma per quale motivo Un divano Consumato Un orologio Benvenuta Oh Luna D'argento Sto leggendo Un po' Velocemente Ma non credo Che sia Essenziale Tradurre questa Serie di frasi Tutto sulla Pazzia Cavolo Ma il proprietario Di questa Libreria Non aveva Altre passioni Senza Volello Abbiamo ottenuto Due emuleti Di zucca Perfetto Adesso Saliamo Ah Un gramofono Coperto Coperto Di polvere E ragnatelle Della disciplina E della comprensione Dei bambini Questi sono tutti Scritti In Braille Si dovrebbe Pronunciare Braille Praticamente Ragazzi È un sistema Di scrittura E lettura A rilievo Per i non vedenti Vale a dire Le persone Cheche Perché Sanno qua Questi libri Particolari Porca miseria Cammino Il legno Fa rumore Ed esce Sta cosa Luminosa Cosa cavolo È Questo È un Cilindro Fonografico Che si usa Nel gramofono Comunque È strano Che ci stanno Libri per ciechi Che magari In questa casa Viveva una persona Cieca Comunque Questa qua È la prima Registrazione Su cinque Ascoltiamola Sto registrando Questo Ti lascio Il mio Ah Ti lascio I miei bambini Il tuo specchietto Ragazza mia Tutto quello Che posso dire Conosco Questa voce Come fai A conoscerla A quanto pare Parlava La mamma Della protagonista E a fine E a fine registrazione Ha detto Che i suoi più profondi Rimpianti Sono adesso Un peso Per lei Molto Molto Interessante È sicuramente La madre Comunque Anche perché Ha parlato Di uno specchietto Sono tutte Lettere Mediche Dopo aver Analizzato La salute Mentale Del paziente Nei giorni Scorsi Adesso Può dare Una diagnosi La paziente Si chiama Elis Ha visioni Notturne Squilibrio Degli umori Corporei E Melancolia Ah Aspettate un attimo Allora Io adesso Sto un attimo Leggendo Una pagina Su internet Che adesso Quasi quasi Ve la mostro Teoria Teoria Umorale Ippocrate E i quattro Temperamenti Per quattro Elementi Adesso Non vi leggerò Tutto quanto Perché basta Che voi Mettiate pausa Per leggere Tutto con calma Questa cosa Qui è legata A questa riga A questa riga Melancolico Viene Viene dal greco Melanos Nero E Clole Bile Questo temperamento È legato Alla milza Ragazzi Purtroppo Come pronuncio Non sto Messo molto bene Specialmente Con il greco Quindi scusatemi Se ho sbagliato Google E troverete Le informazioni Che voi Cercate Molto molto Interessante Questa cosa Infatti Comunque Siamo in un certo Periodo storico E si usava molto Questa teoria Umorale Di Ippocrate Ma adesso Ritorniamo al gioco Tale comportamento Non è dannoso Per gli altri Membri Della Famiglia Del Soggetto Però Purtroppo La salute Del soggetto Man mano Va A peggiorare Il paziente Dovrebbe Trascorrere Le sue giornate A proprio Agio Con un consumo Moderato Di vino Bianco Deve anche Praticare Ginnastica Bagni Caldi Abbondanza Di sonno Moderata Copulazione Carnale Carnale Cioè Non deve Esagerare Con il sesso Però 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 E deve anche Ascoltare Musica Rilassante Carissimi Carissimi Ci tengo a dirvi Un attimo Una cosa Prima di andare Avanti Sebbene Sebbene Possa Sembrare Che il mio Canale È pieno Di video Scemi Per far ridere Basta In realtà Ci stanno Sempre Dei significati Profondi Nei giochi Che scelgo Ma Anche A volte Nei commenti Che dico A voi Adesso Per quanto Riguarda La copulazione Carnale Moderata Da quel che so In questo Periodo Storico Gli psichiatri Consigliavano Alle pazienti Con elevato Stress Depressione E Altri Problemini Vari La masturbazione Perché Veniva utilizzato Come una specie Di antidepressivo Adesso Non vorrei Dirvi una cavolata Però Se per caso Qualcuno di voi È più Informato di me In questo Periodo storico Può Tranquillamente Schivermi un commento Qui sotto al video E magari Dialogare Molto Molto Seriamente Su questo Argomento Mi scuso Se sono sembrato Un po' Volgare Visto che Ho un bel po' Di utenza Che è molto Molto piccola D'età Però Io ci tengo Anche A discutere Di argomenti Molto Molto Seri Anche perché Più avanti Registrerò Un gioco Ambientato In un manicomio Non dico altro Per non Farvi spoiler Sulla serie Futura Però è un gioco Veramente D'impatto Pino D'atmosfera E che Logora Dentro Adesso Continuiamo Dice che Visiterà Il paziente Una volta Al mese Per verificare La progressione Dei sintomi Quasi Sprecato Proprio Ma chi Cacchio è Sta ragazza Che è impazzita In questa casa Amiche Arpai Porca Misera Ragazze Mia Però ti siete Andati a fare Con i ragazzacci E no Per dire Copulazione Moderata Carnale Meno male Che ha la faccia Da santarellina Si sale Si sale Ancora Altri documenti Da leggere Ah questo è uno Spartito musicale E purtroppo Non me ne intendo Di musica Classica Che è successo E' avvenuto Un rumore Però Ah aspetta E' apparso Questo Cos'è Oh cavolo Ma Quella è la Protagonista Aspetta Madre Padre Penso che Sei il padre Non credo che Sei il maggiordomo Cavolo E poi ci sta Un maschietto Deve essere Il fratellino Perché sono In quella Fotografia Che sta Succedendo Non è che adesso Arpai Che ci fa Il culetto Perché Questa foto Sta qui Molto Molto Strano Si trovano Anche documenti In latino E' un nome Piuttosto Triste Per un Dipinto Diario Stanotte Ho incontrato Lo stesso Scenario Ancora una volta Invadendo Invadendo I miei sogni Quell'ombra Misteriosa Mi insulta Per inseguirlo Lungo Una scalinata Infinita Anche Anche stanotte In piedi In piedi In piedi Resisto Possiamo Andarcene Mi metto A salvare Di nuovo Perché la sicurezza Non è mai troppa Ciao Ciao Fletta mia Mi manchi Veramente Tanto Sai Che cos'è Questo rumore C'è qualcuno Lì Sì Ti prego Ho bisogno Del tuo aiuto Ho sentito Strane voci Fuori Devi vedere Se suo padre Sta bene Ho bisogno Che tu Ottenga La chiave Di questa Stanza Per me Va bene Dov'è Risolvi Questo Indovinello E lo troverai Ma dammi Direttamente La risposta Non ci tieni A tuo padre Maledetta Ascolta Attentamente Perché Non lo ripeterò No Vi Supplico Non potete Rovinarmi Poi c'è Questo splendore Dorato Che giace Illeso Aspettando La luce Del giorno Guidati Dalla stella Del nord Devi avanzare Ma porca Miseria Aspetta Non capisco Devi sbrigarti Adesso va Che cosa è questo rumore Ma che è un lupo Un cane Perché non sento più nulla Ma sono stato Mangiato dai corvi Ma posso andare A destra No è troppo buio Vabbè Ritorniamo Dalla pazza Dall'altra parte Della porta Grazie mille Per questo indominello Maledetto Ragazzi Adesso vi dico subito La soluzione Di questo indominello Innanzitutto Basta fare Otto passi Qua sopra Adesso Una a sinistra Altri sei Sopra Bisogna aspettare Possiamo continuare Tre a destra Bisogna ancora aspettare Ed ecco qua La chiave sotto il tappeto Che naturalmente È arrugginita Con tanto di testa di zucchi In effetti Sento la mancanza Delle zucchette troll Però Ragazze Ragazze Termino qui L'episodio Chi si nasconde Oltre quella porta Secondo voi È Harpai O magari È quella pazza Con i capelli bianchi Che ci inseguiva Otterremo la risposta Nel prossimo episodio Se volete commentate In base a quello Che avete visto Grazie come sempre Per tutto il vostro supporto Bye 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 bye